Buongiorno, in questo tutorial cercheremo di capire come nella geometria analitica dello spazio è possibile a partire dalle coordinate di due punti A e B determinare l'equazione della retta passante per questi due punti. In particolare ricordiamo che per definire una retta occorre fornire almeno un punto di partenza e un vettore direzione, quindi tre parametri. Cominciamo con l'osservare che chiaramente il punto di partenza potrebbe essere uno di questi due punti. Ci restano da determinare le componenti di questo vettore. Ora ricordiamo che le componenti di un vettore che unisce due punti sono le differenze delle coordinate x, y e z. Cominciamo quindi per esempio a corrisolvere gli esercizi del libro di testo a pagina 566. Concentriamoci per esempio sul numero 22, determinare le componenti del vettore AB di estremi A e B. Il punto A ha coordinate 1, meno 1, 0. Il punto B ha coordinate 0, 1, 2. Quindi il punto A ha coordinate 1, meno 1, 0. Mentre il punto B ha coordinate 0, 1, 2. Le componenti del nostro vettore AB e quindi i coefficienti della retta saranno dati dalla differenza tra queste coordinate. Quindi se per esempio vogliamo sottrarre alle prime coordinate le seconde otterremo 1, meno 1, meno 2, da meno 2, meno 2. Quindi l'equazione della retta passante per i punti A e B la possiamo scrivere in forma parametrica come x uguale, y uguale, z uguale e per x prenderemo come punto di partenza il punto, ricordate, punto A. Quindi 1, meno 1, 0. Mentre come parametri prenderemo quelli del vettore, quindi più 1t, meno 2t, meno 2t. Questa è quindi l'equazione della nostra retta. In forma più compatta potremmo scrivere come x, y, z uguale 1, meno 1, 0, più t che moltiplica 1, meno 2, meno 2t. Questo è semplicemente un altro formalismo per descrivere la stessa equazione. Grazie e arrivederci al prossimo tutorial.